Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video. Se, a conferma delle precedenti informazioni che abbiamo condiviso con voi, pioggia e neve torneranno prepotentemente verso l'Italia, a partire dalla fine della prossima settimana, ma prima di entrare nei dettagli, cliccate prima su mi piace in segno di apprezzamento per le informazioni che condividiamo con voi continuamente e gratuitamente. Se le ultime uscite dei modelli digitali globali sono ancora costanti e indicano lo scoppio di una massa d'aria molto fredda accompagnata da una depressione d'aria che sarà da media molto efficace, carichi di pioggia, neve e clima invernale con distinzione dopo il 7 e l'8 marzo 2023, e inizialmente secondo i dati preliminari a nostra disposizione, le regioni settentrionali del paese avranno la quota maggiore di neve. Centro e sud, e quindi in tutto, tutte le regioni settentrionali, centrali e anche meridionali saranno interessate da questa forte depressione e restate sintonizzati per dettagli più precisi nelle prossime ore e voi siete sempre in buona salute.